Con una circolare, l'Agenzia dell'Entrata ha comunicato alle istruzioni per i dattori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto aiuti bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro, al posto degli ordinari 258,23 euro, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti i beni e i servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concesse ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. In questa direzione, la circolare numero 35 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobile ad uso abitativo posseduto o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano quindi anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile, nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore locatario o del proprio coniuge e familiari. Rientrano tra i fringe benefit, infine, anche i beni ceduti ai servizi prestati dal coniuge del lavoratore, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.